Tre nuovi mezzi dotati di tutti gli ultimi ritrovati della tecnologia e dell'efficienza, monitor di viaggio con il percorso in tempo reale, annuncio audio delle fermate in italiano e in inglese, capienza e comfort per i passeggeri e soprattutto il rispetto dell'ambiente. Si tratta infatti di mezzi Euro 6. L'amministrazione comunale di Chieti presenta la novità introdotta dalla società La Panoramica. Oggi questa azienda offre appunto alla città un investimento in questi tre autobus che sono veramente un'eccellenza e adesso spiegheranno tutti i fattori tecnici e gli accorgimenti che hanno. Spero che la città e i cittadini apprezzino questa evoluzione che va nell'ottica sempre del rispetto dell'ecologia, della riduzione dell'inquinamento per quanto riguarda soprattutto il trasporto pubblico. Un investimento in gente, tre mezzi che si preannunciano come l'avvio di una nuova era in un momento storico che vede le città bloccate da livelli di smog fuori controllo e la garanzia di un'efficienza che oggi diventa come l'acqua nel deserto. Se riusciamo ad avere altri autobus dentro quest'anno e all'inizio dell'anno prossimo metteremo il servizio innanzitutto vorremmo mettere anche sui filobus questo sistema in modo che siccome il filobus è la linea 1 è la linea cardine della città di Chieti che collega Chietiscale con Chieti e poi vorremmo soltanto acquistare altri autobus se ci sono i fondi.